Vax Day a ferragosto, vaccinazioni ad accesso libero per chiunque dai 12 anni in su non abbia ancora avviato il ciclo vaccinale. L'Ulse 2 della marca trevigiana ha deciso di dare un'opportunità in più agli indecisi o a chi magari per ragioni di lavoro ha rinviato l'appuntamento. L'accesso sarà libero senza prenotazione quindi dalle 8 alle 20 al centro vaccinale all'ex Maber di Villorba. Gli altri Vax Point della provincia, Godega, Riese, Vidor, Ponte di Piave e Monastierra saranno chiusi per assenza di prenotazioni. Nei giorni scorsi per Ferragosto a Villorba si sono prenotate una cinquantina di persone. Abbiamo deciso di effettuare un Vax Day straordinario a Ferragosto, sottolinea il direttore generale Francesco Benazzi, in modo da dare la possibilità a tutti coloro che sono a casa e che ancora non si sono vaccinati di poter venire liberamente senza necessità di prenotare. Per quanto riguarda i tamponi, l'ultimo dato è di 1139 test effettuati ieri, dei quali 69 a pagamento, 25 le positività emerse. E per quanto riguarda i positivi dell'ultima settimana, comunica l'azienda sanitaria, 2 su 3 hanno meno di 40 anni.